Torna l'Andem al Dom, 35esima edizione, Educare una festa. Ma la modalità forse è un po' diversa quest'anno, proviamo a spiegarla. Sì, è una consitudine ormai arrivata la 35esima volta e vorremmo vivere una continuità nella differenza. Una continuità perché ormai l'Andem al Dom è una tappa irrinunciabile nella nostra diocesi come segno della presenza viva della scuola e come segno dell'amore per la scuola che la comunità intera, a partire dai genitori al sostegno di tutti gli altri, compreso la diocesi, ha sempre voluto segnare. Quest'anno la differenza, o la novità se volete, è che vorremmo proprio fare festa in piazza Duomo. Il segno della festa è il segno più bello che possa tradurre l'amore, la cura, l'attenzione in un contesto così delicato come è quello dell'educazione dei piccoli. Ci saranno quindi momenti dopo l'intervento del Cardinale, particolari in piazza Duomo, quali ad esempio qualche primizia? Ma certamente una delle prime appunto novità è che il nostro arcivescovo invece di concludere come sempre è stato solito fare il momento dell'Andem al Dom, di questo convegno, in realtà sarà proprio lui ad aprirlo, ad accoglierci e a dirci una parola perché la festa trovi il suo luogo proprio e il suo senso. Quindi innanzitutto il nostro arcivescovo darà l'inizio alla festa in piazza. Festa che sarà condotta da chi vive la scuola in primo luogo, in modo diretto. Quindi ci saranno docenti di diverse materie, di scuole paritarie e di scuole statali con i rispettivi alunni che animeranno la piazza. Basti solo ricordare che per esempio tutto l'intervento sarà sostenuto da un'orchestra di 100 elementi, quindi 100 ragazzi che con i loro strumenti ci allieteranno nel momento musicale. Oppure ci saranno dei giornalisti in erba che faranno delle interviste perché provengono da una scuola grafica di comunicazione e quindi saranno ben riconoscibili e interpelleranno la maggior parte dei convenuti. E poi avremo anche la bellezza di un'animazione grazie alla danza. Anche qui i rispettivi professori e alunni ci aiuteranno a imparare semplici passi perché vorremmo realizzare anche un flash mob che partirà da Piazza Duomo e idealmente vorrebbe invadere la rete e la rete di tutte le nostre scuole.